Cari amici, buonasera. Anticipiamo di un'ora la diretta Facebook Mezz'ora culturale con gli amici di Magdi e Cristiano Allam perché tra un po' qui a Comoda dove vi parlo terrò un incontro pubblico presso il centro formativo Starting Work in piazzale Montesanto 4 ed è un incontro organizzato da un gruppo di studenti universitari, studenti degli studenti dell'Università della Insubria. Terrà una conferenza sul tema Medio Oriente e Occidente, incontro o scontro. Ringrazio intanto Emanuele Linza, Agata Marino che si sono collegati, scusatemi che vedo la diretta anche Bruno Amerio, Stefano Sias, Mauro Rodoni, grazie di cuore anche a Marina Sagittario per essersi collegata e saluto anche Yolanda Savelli, Stefano Sias, Nino Carlino, Michele Di Chiara. Bene, tra mezz'ora Tiziana Chiusa, buonasera, grazie anche a Marta Pedroli e a Maria Luisa Bonomo che si è collegata. Grazie, grazie di cuore a tutti quanti. Tra circa mezz'ora il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà il candidato primo ministro scelto dal Movimento 5 Stelle. Saluto anche Vittorio Zetta, Miranda Baccini, grazie per essere con noi anche a Crocifisso Savasta. Incontrerà il professor Giuseppe Conte, avvocato, docente all'Università di Firenze, Alessia Ciotti, Luigi Paolillo, Rosalia Friello, grazie per essere presenti, anche a Davide, Antonio Davide Sica e a Sonia Criscuolo. Grazie Sonia, grazie anche a Giovanna Sardo. Quasi sicuramente secondo le indicazioni che provengono dagli ambienti del Movimento 5 Stelle e della Lega, il capo dello Stato Mattarella conferirà l'incarico al professor Giuseppe Conte. Nonostante la perdita. Giovanni Montingelli, buonasera anche a Silvia Lazzati per essere collegata. Grazie di cuore anche a Placido Galvagno e a Claudio Pititto, scusatemi, Pititto e a Salvatore Crisa Fulli e Angela Guolo. Come sapete, il professore e avvocato Giuseppe Conte, nel suo lungo e colposo curriculum pubblicato ufficialmente, ha vantato dei titoli di studio che sono stati negati dalle università direttamente interessate. E questo ha scalfitto indubbiamente la sua credibilità, ma pare che su questa vicenda si intenda soprassedere e il Movimento 5 Stelle e la Lega sono determinati a mantenere la loro fiducia nei confronti del professor Giuseppe Conte. Ora sorge un altro problema che a mio avviso è più significativo, è più sostanzioso ed è il problema che concerne Paolo Savona. Paolo Savona ha 82 anni, quindi all'età di Silvio Berlusconi, è un economista, è stato un protagonista della Prima Repubblica, la Repubblica che è stata egemonizzata dalla democrazia cristiana, poi è scomparso nella Seconda Repubblica, quella che è iniziata con la vittoria di Silvio Berlusconi di Forza Italia nel 1994, salvo riapparire ma in modo fugace e ora a 82 anni torna alla ribalta, saluto anche Artan Kerluku, Paolo Tanga, Anna Papalini e Giorgio Taddei che sono collegati. Paolo Savona ha fatto parte dell'ufficio studi della Banca d'Italia, è stato direttore generale di Confindustria, presidente del fondo interbancario di tutela dei depositi, di Impregilo, di Gemina, degli aeroporti di Roma, del consorzio Nuova Venezia, poi è stato ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il governo tecnico di Carlo Azzeglio Ciampi, quindi capo del dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinatore del Comitato Tecnico per la Strategia di Lisbona durante il governo Berlusconi, saluto Osvaldo Ricco, Luciano Troiano, Marina Vittori, grazie anche a loro per la loro partecipazione. Ebbene la polemica, la polemica che è subito esplosa perché proprio in questi giorni Paolo Savona, ovviamente non era, come dire, pianificato, immagino che non fosse pianificato, sta pubblicando una sua autobiografia, una sua autobiografia dal titolo come un incubo e come un sogno, dove critica fortemente soprattutto la Germania. Leggiamo insieme cosa scrive Paolo Savona nella sua autobiografia a proposito della Germania, parole molto 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 dure. La Germania non ha cambiato la visione del suo ruolo in Europa dopo la fine del nazismo, pur avendo abbandonato l'idea di imporla militarmente. Per tre volte l'Italia ha subito il fascino della cultura tedesca che ha condizionato la sua storia non solo economica, con la triplice alleanza del 1882, il patto d'acciaio del 1939 e l'Unione Europea del 1992. Saluto Alessandro Aragona, Maria Bracaglia, grazie di essere collegati. E poi Paolo Savona domanda, si domanda, è pur vero che ogni volta fu una nostra scelta. Ma possibile che non impariamo mai dagli errori? Si domanda Paolo Savona. Sempre nella sua autobiografia Paolo Savona scrive, l'euro è una creatura bio giuridica costruita male, con una modifica di fatto della Costituzione, attuata con leggi ordinarie da parlamenti impreparati e superficiali, subordinati a elite che illudono i popoli. E ancora, sempre a proposito dell'euro, ringrazio Stefano Franceschetto, Lorenzo Magna Bosco, Giuseppe Scarcella, che sono collegati. Sempre a proposito dell'euro, nella sua autobiografia Paolo Savona scrive, il problema di fondo dell'euro che Draghi non può risolvere è che ha messo insieme un'area affetta da divari profondi nella produttività che non sono legati a diverse culture, ma anche a diverse strutture economiche pubbliche e private che non possono essere corrette obbligando a praticare politiche di rigore, tantomeno se basate su aumenti della pressione fiscale. Il processo di convergenza è lungo, ma il lungo cammino inizia con il primo passo che non stiamo attuando. E già questa espressione dovrebbe farci sorgere il dubbio che in realtà Paolo Savona sia favorevole ad una moneta unica, pur essendo critico nei confronti di questo euro. In interviste rilasciate recentemente alla stampa Paolo Savona ha detto «Le difficoltà dell'Unione Europea sono colpa delle élite che la guidano. Dicono di interessarsi al popolo ma si occupano solo di se stesse e non ammetteranno mai il fallimento e questo acquisce i problemi. Le élite italiane hanno voluto questa Europa, sbagliando, si prendano la colpa o qualcuno gliela attribuisca». Stefano Di Francesco, buonasera, buonasera Maria Laura, loi che ci stanno seguendo. E poi aggiunge, sempre in interviste rilasciate recentemente alla stampa, «Battere i pugni sul tavolo non serve a niente. Bisogna preparare un piano B per uscire dall'euro», dice Paolo Savona. L'alternativa è fare la fine della Grecia. Alleggia la possibilità che per evitare una probabile crisi il Paese sarà posto di fronte al dilemma di sottostare a una tassazione massiccia e tagli salariali. La soluzione non può essere che quella che il presidente Mattarella non accetti un governo che ponga il Paese in queste condizioni, anche perché non rifletterebbe la volontà degli elettori. Le proposte di approvare il reddito di cittadinanza, di eliminare la legge Fornero e di attuare altre costose promesse vanno collocate realisticamente in questa scelta. Grazie anche a Greg Surage, Chiara Desiderio e a Rosa Bruzzone. Bene, cari amici, io ricordo che nel 2013 Savona pubblicò un manifesto favorevole a un nuovo trattato europeo basato sulla espressa convinzione, queste sono parole di Paolo Savona, che l'Europa ha bisogno di restare unita per contare nel mondo e fornire pace e prosperità ai suoi cittadini, ma non può farlo mantenendo l'attuale imperfetta architettura, perché entrerebbe in contraddizione con le sue stesse finalità, divenendo politicamente ingovernabile. Quindi Paolo Savona chiede che nel nuovo trattato europeo venga esplicitamente richiesta una completa revisione dei poteri e dei compiti della Banca Centrale Europea, saluto Simone Fadlon e Antonina Lofaro che si sono collegati, rendendo la Banca Centrale Europea quanto più simile alla Federal Reserve americana. Auspica, cioè Paolo Savona, una sempre maggiore integrazione delle politiche fiscali a livello europeo, la creazione di una struttura scolastica universitaria europea, saluto Filippo Spagnoli, Antonina Lofaro, Claudia Ferraudo che si sono collegati e auspica Paolo Savona lo sviluppo di normative sul lavoro omogenee, devolvendo quote di sovranità nazionale, fiscale e legislativa alla Commissione Europea, saluto anche Mauro Grimolizzi che si è collegato, e al Parlamento Europeo. Fabio Basta, buonasera, ripeto cari amici, devolvendo quote di sovranità nazionale, fiscale e legislativa alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo. Questo è il pensiero di Paolo Savona nel 2013. Bene, io non mi limito a indicarvi ciò che Paolo Savona ha scritto o ha detto a dei giornali. Personalmente l'ho incontrato, ho avuto modo di intrattenermi con lui circa un paio d'ore, ho avuto con lui una lunga conversazione, ebbene ho avuto la testimonianza diretta di Paolo Savona che lui è critico nei confronti di questo euro, ma è critico perché lo considera una moneta debole che ha indebolito, che ha impoverito i popoli. Paolo Savona vuole una moneta unica forte, vuole una totale fusione delle strategie monetarie, economiche, finanziarie dello sviluppo dei paesi europei, che significa la fine della sovranità degli stati nazionali, la fine dell'Italia come stato nazionale. Quindi io credo che quello che stiamo assistendo in questo momento, cioè una sorta di interrogatorio di Paolo Savona, si sollevano dei dubbi sul suo pensiero, in particolare si è preoccupati per i toni molto forti che Paolo Savona ha nei confronti della Germania, l'Italia si comporta quasi fosse un suddito della Germania, ebbene probabilmente l'obiettivo è semplicemente quello di esigere da Paolo Savona di chiarire, di rettificare e soprattutto di chiarire e di rettificare che lui non è assolutamente contrario né all'Unione Europea né al concetto di una moneta unica per l'insieme dei paesi che aderiscono all'Eurozona. Probabilmente il capo dello Stato Sergio Mattarella, l'Unione Europea stessa, chi in seno alla classe politica italiana parteggia per l'europeismo e parteggia per la perdita totale della nostra sovranità nazionale, vogliono che Paolo Savona chiarisca precisi, puntualizi affinché anche Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini capiscano chi è veramente Paolo Savona. A coloro che immagino della Lega, scusatemi del Movimento 5 Stelle a commento dell'articolo che io ho pubblicato in cui Silvio Augusto Fatone, grazie per essere presente, che mi dicono accusi terroristi islamici ma tu sei peggiore terrorista intellettivo perché oso puntualizzare il pensiero di Paolo Savona e altri che dicono che va benissimo Paolo Savona perché noi abbiamo bisogno di un Euroforte, abbiamo bisogno di un'Europa maggiormente coesa. Bene, io chiarisco quello che è il mio pensiero, il mio pensiero. Io sono totalmente convinto che non potrà esserci ripresa e sviluppo in Italia, non potremo porre un'argine al crescente impoverimento degli italiani, alla moria soprattutto delle micro, piccole e medie imprese italiane fin tanto che noi non riscatteremo la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità legislativa, la nostra sovranità giuridica, la nostra sovranità in materia di difesa e in materia di sicurezza. Elena Rita Chiaromonte, cosa pensi di questo governo? Io, cara Elena, aspetto che si formi il governo per poter poi esprimere una valutazione compiuta. Sicuramente dico che un governo formato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord non è il governo che gli italiani hanno votato andando alle urne il 4 marzo. La Lega Nord, come sapete, faceva parte della coalizione del centrodestra insieme a Forza Italia e insieme a Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle ha partecipato autonomamente alle elezioni. L'elettorato che vota, la Lega è un elettorato di centrodestra. L'elettorato che vota il Movimento 5 Stelle è un elettorato prevalentemente di sinistra o di estrema sinistra. Oggi Matteo Salvini dice che destra e sinistra sono morte, sono categorie caduche e che il confronto o lo scontro è tra coloro che sono il popolo e coloro che sono le elite. ed è una concezione, a mio avviso, sbagliata della realtà perché l'ideologia comunista contrapponeva i lavoratori, il proletariato dai padroni, dagli imprenditori, dagli industriali, dai capitalisti, usando un termine caro al lessico marxista. Ma oggi noi ci troviamo di fronte ad una realtà dove a soffrire a causa della globalizzazione, in particolar modo della globalizzazione finanziaria, ed è una cosa diversa dal capitale, così come lo si è inteso per secoli, perché parliamo di una moneta virtuale che ha dato vita ad una massa di moneta virtuale, una massa monetaria virtuale che nel 2008, quando ci fu il tracollo della banca d'affari americana Lehman Brothers, questa massa monetaria virtuale fu stimata in 7.800 miliardi di dollari, pari a 12 volte il PIL mondiale. Capite bene qual è l'essenza del problema. Noi abbiamo un ammontare del valore dei beni e dei servizi prodotti dalle economie di tutti i paesi del mondo messi insieme e abbiamo un ammontare di moneta virtuale che è 12 volte il valore reale dei beni e dei servizi prodotti a livello mondiale. Antonella Garbato non credo, io non sono di centrosinistra e ho votato Movimento 5 Stelle. Bene, prendo atto che pur non essendo Antonella Garbato di centrosinistra ha votato il Movimento 5 Stelle, probabilmente è un voto che anche nell'ambito di ambienti diversi ha saputo cogliere la voglia di protesta, di denuncia e di cambiamento, un cambiamento che tuttavia oggi si precisa sempre di più per chi non ne fosse a conoscenza prima come un totale allineamento in realtà a quelle che sono le linee guida dell'Unione Europea e del globalismo e della globalizzazione con delle necessarie rettifiche per migliorare il tenore di vita degli italiani, per porre un argine all'impoverimento degli italiani. Questo è sicuramente apprezzabile ma un conto è porre un argine, un conto è alleviare le difficoltà in cui si trovano le nostre imprese, un altro conto è rilanciare lo sviluppo. Un altro conto soprattutto, ed è un tema di cui si parla fin troppo poco, è mettere gli italiani nella condizione di potersi risollevare sul piano demografico, perché l'Italia purtroppo è una popolazione destinata a estinguersi, perché abbiamo più di altri paesi europei e siamo il paese più anziano al mondo, secondi solo al Giappone, abbiamo smesso di fare figli. Allora Luigi Papette ha perfettamente ragione, non esiste più destra e sinistra ma elite e popolo. Bene, questa è la tesi di Matteo Salvini che io non condivido, ieri ho spiegato il perché, ritengo Maria Luisa Bonomo. L'UE non è uno Stato ma è un'organizzazione sui generis. Stefano Di Francesco, i debiti dell'Eurozona sono circa tre volte il PIL dell'Eurozona. Fin quando non si romperà il paradigma che è la base della UE, non ci sarà ripresa. Benessere, prosperità per i popoli. Stefano Di Francesco è una persona competente di queste tematiche e sono anni che evidenzia che il problema è il debito, in particolare il debito dei privati. Il debito dei privati perché sono tartassati, tartassati in Italia specificatamente dal più alto livello di tassazione che c'è al mondo, oltre a una serie interminabile di adempimenti fiscali, normativi che obbligano le imprese di fatto mediamente a lavorare per lo Stato sette, otto mesi all'anno. Il risultato è che le imprese finiscono per morire o finiscono per delocalizzare, per andarsene all'estero. Francesco Livio Golemme, rivedere il cambio a 1936,27 oppure adeguare, raddoppiare i salari della classe operaia e commerciale, rivedere il job tax che è solo precariato e povertà, oppure fuori e tornare a battere moneta e sovranità nazionale. Questa Europa ha solo annientato e impoverito, questa Europa ha fallito. Io, caro Francesco, condivido ma sottolineo che se noi vogliamo risolvere alla radice il problema e non limitarci a curare la malattia mantenendo però la malattia, noi dobbiamo riscattare la sovranità monetaria perché il meccanismo vizioso che si ingenera è che noi oggi siamo inevitabilmente costretti a contrarre sempre più nuovo debito per ripianare gli interessi sul debito, cioè lo Stato è costretto per poter disporre moneta rivolgendosi alle banche commerciali che sono le uniche istituzioni titolate a ricevere la moneta che viene messa dalla Banca Centrale Europea, in cambio lo Stato rilascia titoli di debito che sono i BOT e i CCT che generano nuovo debito, che generano nuovi interessi sul debito e che per i cittadini, per le famiglie, per le imprese si traducono in nuove tasse che finiscono per di fatto condannarci a morte. Sergio Francese, ritengo che il diritto di voto a suffragio universale abbia trasformato la democrazia in oclocrazia. Oclocrazia onestamente non l'avevo sentita, a mio avviso si dovrebbe istituire un patentino elettorale, iniziando dall'elettorato passivo. Questo è un altro discorso. Buonasera da Imperia, Quintino Loi, Antonio Maria Filippo Tortorici, caro cristiano, non credi che bisogna provare perché che si preoccupano in Europa, forse siamo sulla strada giusta, che ne pensi? È un'ipotesi. Saluto Giulia Huda Amer, Max Travison, Silvia Lazzati e anche Antonina Lofaro che ho già salutato. Il discorso che è comunque preferibile un governo politico, anche se formato da forze che sono, come dire, almeno per quello che concernono i loro contenuti programmatici, per quello che concerne il loro elettorato di riferimento, sono delle forze politiche incompatibili che hanno realizzato un minimo comune denominatore per poter governare insieme costi quel che costi, dire è meglio che ci siano loro al governo anziché avere un governo tecnico oppure dover tornare alle urne con la conseguenza che riavremo un quadro nuovamente spezzettato e si riproporrà nuovamente il problema di come formare il governo. Quindi è la logica del male minore. Di fronte ad un male maggiore meglio scegliere un male minore. Io non sono d'accordo, io penso che se si balasse una nuova legge elettorale contemplante due punti, il primo è il voto di preferenza affinché siano gli italiani a scegliere chi li rappresenta in Parlamento, è il secondo un premio di maggioranza da attribuire o al partito o alla coalizione che risultino vincenti in modo da garantire la governabilità del del paese. A mio avviso sarebbe stato preferibile di fronte all'evidenza dell'assenza di una maggioranza coesa uscita dalle urne il 4 marzo sarebbe stato preferibile tornare alle urne con una nuova legge elettorale affinché chi governa l'Italia sia una realtà coesa che possa anche volare alto, non debba operare sulla base del minimo comune denominatore. Sapete qual è la mia vera preoccupazione? È che più che governare insieme il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord continueranno a fare campagna elettorale sfruttando ciascuno i propri dicasterri e dopo che si saranno sufficientemente garantiti una visibilità mediatica e riterranno che gli elettori saranno pronti per dare loro maggiore consenso. A quel punto si tornerà comunque a votare. Bene, io ringrazio anche Silvia Lazzati, Giacomo Lambertini, Tina Bonino, Giancarlo Toscano per la vostra partecipazione. Sono le 17.29. ricordo agli amici che si trovano a Como, la provincia di Como, l'area circostante che tra mezz'ora alle ore 18 a Como presso il centro formativo Starting Work, quanto odio gli inglesismi, potremmo usare benissimo il corrispettivo in italiano di Starting Work, che poi sarebbe avviamento professionale, il centro formativo sito in piazzale Montesanto 4, zona Caserme, qui a Como ci sarà una mia conferenza dal titolo Medio Oriente e Occidente incontro o scontro di civiltà con il punto interrogativo. Se potete venite, l'ingresso è ovviamente libero, dopo la mia conferenza ci sarà un dibattito pubblico, presenterò anche il mio nuovo libro, il Corano senza veli. Chi volesse comunque leggerlo, acquistarlo, lo può fare attraverso il mio sito www.magdicristianoallam.it. Costa soltanto 10 euro, sono 250 pagine. Bene, vi auguro una buona serata, vi abbraccio fraternamente con un mondo di bene. A domani, spero sempre alle 18, qualora dovesse esserci una modifica sarà mia cura informarvi anticipatamente. Un abbraccio fraterno a tutti e un mondo di bene.